Chiesa a Gremita, Montebelluna per l'ultimo saluto all'imprenditore politico Remo Sernagiotto, tra i presenti oltre a parenti e amici, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Montebelluna Elzo Severin, il consigliere regionale Marzio Favero, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, molti esponenti del suo partito e Giancarlo Galan. Tanti ricordi in diversi ambiti per un uomo che ha caratterizzato la scena politica ed economica non soltanto nella sua città ma in tutta la Regione, una carriera da imprenditore nel mondo degli pneumatici e un'esperienza politica pluriennale a tutti i livelli, dal comune di Montebelluna fino al Parlamento europeo passando per un assessorato alla sanità in Veneto e con la presidenza di varie commissioni. A testimoniare la sua generosità sono stati la moglie Maurizia, i figli Gloria e Gregorio che l'hanno ringraziato degli insegnamenti ricevuti col suo esempio. Remo Sernagiotto diceva sempre che il vuoto causato da una sconfitta viene sempre rimpiazzato da qualcos'altro ma in questo caso i figli hanno affermato come la sua mancanza sarà impossibile da colmare. Dietro la chiesa in sicurezza 300 i posti a sedere e molti in piedi delimitati dalla segnaletica. Dietro l'altare gli alpini l'hanno commemorato secondo l'usanza dell'arma recitando la loro preghiera. La bara è stata deposta a Montebelluna con la presenza di pochi intimi, un funerale che verrà ricordato da tutta la comunità così come l'imprenditore.